Sapete quando noi ci ammaliamo, quando diventiamo antiquati e non lasciamo spazio ad idee nuove, è allora che decliniamo, non possiamo sopravvivere aggrappandoci a idee tramontate, lo sguardo opaco delle abitudini non ci fa stare al passo dei mutamenti, e allora ci vuole una sveglia, per vincere la pigrizia e cogliere la sfida. Si tratta di superare ciò che siamo stati, bisognerebbe oltrepassare l'idea che abbiamo di noi stessi, cioè la visione del mondo che riflette la nostra psicologia. La domanda è come facciamo a parlare al malato che è in noi, al pauroso, al depresso, al folle. La psicoterapia vuole sciogliere il nodo presente in ognuno di noi e lo fa attraverso il raccontarsi. Si raccontano i propri dolori ad un altro, per chiedere comprensione, ma in ultima analisi per chiedere amore. Il vero problema è quando stiamo male e non ce ne rendiamo conto. Ecco perché fin da bambini dovremmo imparare ad avere confidenza con ciò che ci muove dall'interno, con ciò che ci stimola, ci spaventa o ci rende felici. Cos'è che ci angoscia? Cos'è questo vuoto che ci attanaglia? Beh, il vuoto sono le relazioni mancate. Infatti il pieno delle cose, il pieno che promettono gli oggetti sta al posto del vuoto delle relazioni mancate. Del resto, se mancano i valori, è perché non c'è connessione tra cuore, pensiero e gesto. E allora ciò che dobbiamo riscoprire innanzitutto è la capacità di immaginare. L'arte dell'immaginazione, col suo linguaggio, riesce a parlarci di noi e a dire l'indicibile che alberga nel nostro profondo. Ma ci vuole un altro. L'immaginazione deve avvenire al cospetto di un altro. Allora è più feconda, perché ciascuno di noi sperimenta la propria esposizione all'altro, per accorgersi che l'altro era solo il pretesto per raggiungere la realizzazione di sé. L'altro è un enigma. L'altro ci altera, ci mette in discussione. Il vero rapporto con un altro non è una cosa tranquilla, come non è tranquilla la psicoterapia. Certamente in questo rapporto c'è comprensione, c'è delicatezza, confidenza, rispetto, passione. Ma poi c'è violazione dell'integrazione dell'individuo, dell'integrità dell'individuo. E quindi c'è naufragio. È così che ci si sveglia e si supera se stessi. Questo è il risveglio psicologico. È un eccedere oltre l'io, un dissolvere i confini dell'io e quindi superare questi confini. Nel risveglio l'io si deve fare portavoce, non è più lui l'autore assoluto. Ecco che si schiude una voce nuova, una voce nuova. Vogliamo rinnovarci. Il nutrimento di questo rinnovamento sono il mistero e la ricerca, che comunque comportano un rischio. Ma noi non possiamo non correre questo rischio. L'immaginazione vive di questo rischio. Il desiderio, la fantasia, vivono al varco. Sono in bilico sull'orlo di un abisso. Non camminano certo sul sentiero della prudenza. L'immaginazione ci porta dove? Ci porta a noi stessi, per farci sbocciare. Però non è una faccenda dell'io. Tutto ciò che è immagine, compreso l'amore, non è faccenda dell'io. L'io non è padrone a casa sua, ma viene immaginato, semmai. I filosofi dicono che la volontà di vivere muove il mondo e nel perseguire la riproduzione della specie questa volontà inganna gli uomini e lo fa con l'amore. Dire questo è come dire che noi non siamo i protagonisti della nostra storia d'amore, piuttosto siamo le pedine che la specie muove per far progredire se stessa. La volontà di vivere è un impulso che spinge l'uomo all'azione e quindi alla vita. Ma noi ci chiediamo quale sarebbe, da un punto di vista psicologico, l'azione giusta. Qual è l'azione giusta? Beh, tutti noi vorremmo vivere una buona vita. La psicologia può aiutare a migliorare la qualità della vita. Ora, ciò che porta a questo risultato è comunque un incontro umano in cui il paziente si fida dello psicoterapeuta e compie insieme a lui un percorso di crescita, liberandosi dai suoi tanti ostacoli. Due sono le strade possibili. Possiamo difenderci dal rischio di vivere una vita piena, chiudendoci nell'abitudine a giudicare gli altri, nel pettegolezzo, senza meraviglia, stringendo la nostra esistenza in una rete di millimetriche regole capaci di ammortizzare la vertigine di un'immagine negata. Oppure possiamo cavalcare l'onda senza certezze, come una sorta di nave senza nocchiero in un mare in tempesta. Per scegliere saggiamente dobbiamo imparare a conoscerci e ad accettarci, per trasformare i nostri limiti in opportunità. Ma siamo disposti ad interrogare noi stessi? Abbiamo l'onestà di chiederci chi siamo? La funzione di questa domanda è quella di metterci a pensare riflettendo sui nostri desideri, sugli istinti, sugli impulsi. È un po' come scrivere un diario per mettere nero su bianco le fantasie, le emozioni, i sogni. Quello che in psicologia si chiama il romanzo di una vita. Vedete che nome romantico. Ecco, questo è già un modo per guardarsi dentro, senza filtri. Però chiedersi chi sono non è un semplice interrogativo, perché è una domanda che apre un percorso di esplorazione. Un percorso entusiasmante ma pur sempre pericoloso. Si tratta comunque di ascoltarsi, cercando di individuare i segnali nascosti della mente, aprendosi a nuove sfide, che poi sono sfide anche pratiche, no? Pian piano scopriremo che anche gli errori raccontano aspetti particolari di noi e potrebbero trasformarsi in dono. Così lo schema ripetitivo di questi errori che abbiamo commesso ad un certo punto si spezza. Infatti ci rendiamo subito conto che nonostante i rimorsi e i rimpianti, noi siamo andati avanti. Comunque siamo andati avanti lo stesso e dobbiamo capire che siamo anche più forti di prima. Per vedere questa verità occorre sviluppare uno sguardo particolare. Non a caso la terapia psicologica consiste nel trasformare l'inconscio inconscio. Pertanto fare coscienza significa entrare nel mistero, saper lavorare di fantasia, dimenticando quel che sia, in modo tale che l'immaginazione possa vagabondare libera. L'arte della psicoterapia è come i ferri chirurgici che per guarire devono anche ferire. Ma non dobbiamo aver paura di soffrire, perché quel dolore è il fuoco che ci appassiona alla ricerca e all'incontro con l'altro. Vedete, non possiamo soffrire per sempre di nostalgia del paradiso perduto. È per questo che impariamo a saltare nel vuoto, sfidando la sensazione di sparire. Ma l'eros è l'antidoto al vuoto. Questa guerra si vince col dialogo appassionato ed erotico, in bocca al lupo.